Ce l'ha fatta? È morto? Boh. Niente vita, mi sa. Vai, ora si rinizia con la rottura. Qui c'è proprio l'apoteosi, eh, della rottura. Veramente. Questo l'abbiamo già visto. Per fortuna ho trovato una tecnica che sembra essere buona, eh. Però prima mi hai crashato, perché erano quasi arrivati tutti e due a vita bassa. Consiste e fa questo. Però vedi, mica sempre funziona. Avanti e triangolo. Perché un po' le stalla, eh. È anche tosto, comunque. Però c'è una possibilità. L'unico modo per farlo è così, eh. Cioè, veramente. Queste cose a me mi fanno ridarrile, però. Eh, però c'è quell'atto che spamma. Sulle 6 e 10, eh. Volevo vedere se riesco a liberarmi per la diretta. Con un po' di cervello, eh, però. Cos'è? Ti sei incartato? Madonna. Rotti e allucinanti che siete. Pernomani sono abituato a fare questa roba, perché... In Day of May Cry è quasi essenziale fare cancel. Questa è una sottospecie di cancel. Oddio. Guarda un po' come cambia la situazione, eh. Guarda un po' come cambia la situazione, eh. Sapello prima. Però vedi, sono dovuto andare su internet a vedere. Che poi che sta cosa qui di continuare a spammare l'ho fatta io, perché di solito non lo fanno. Lo fanno solo una volta, così. Aspettando che lo colpisca. Però... Ho visto prima che se si continua in maniera brutale, potrebbero incastrarsi. Tipo così. Io ho rischiato, eh, però. Un po' dicono che in questa battaglia ci vogliono dei riflessi estremi. E l'ho visto. Vada lì. Eh. Vedi? Vedi? Quanto ci vuole? Quanto ci vuole? Cazzo, proprio. La telecamera. Minchia, non so mia se ce la fa in tempo. Non so neanche che mi aspetta nell'armissione 6. Con la colicantropa, mi sembra. Venezia. Nippo, qui toglie abbastanza, però, odè. Eh, va. Eh, va. Mica, quanto è rotta è sto capitolo. Sto capitolo è veramente usceno. Ma l'ho già detto in uno scorso episodio, un voglio di Leos che ho già detto. È una connessione a Scepilu. 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 Ma l'ho già detto in uno scorso episodio, un voglio di Leos che ho già detto. Cosa cazzo si deve fare? Cioè... Ma muori! Coglione! L'ho già detto. Ok, mi sembra già la bizze, Dio santo, bizze mi sembra già. Non è mapparato. Mi basta un errore qui che crepi. Io cane, ma crepa! Ma, porco Dio, donna cane, cazzo, meno male ce l'ho fatta, meno male. Sanji. Sanji. Ma è morto! Orco Dio. Momiji? E' tu? Sanji. Tu sei bene. Momiji, la città, non potrei... Non è bene. Tutti si preoccupi di te. Prendi domani. Dopo che sei un vero ninja, Sì, 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 Sì. E lui è il fabbro Mica è davvero finito il quinto capitolo Madonna cane Quanto cazzo è rotto Veramente Sotto c'era un deliro mi ricordo In due Moriodo mica questa cosa io Sono tornati Con furore In due Ma ce n'era uno solo mi ricordo Hai visto? Come si fa? Fa così Fa così Bravamente Quanto li tolgo rispetto alla tot Vergogna Quell'altro uno becca E uno E ora che si fa? E ora che si fa? Madonna ragazzi Poi che senso ha se le fatti fuori Boh Sempre ste ose ci sono Sempre ste ose Grazie a tutti Grazie a tutti Stavo partendo Un minimo di tempo Che c'è? Non vai più? No Era confuso con perla Con tasti diversi Finca ci mancano solo questi due deficienti Madonna Ai 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 Eh, ne becca uno Bene Guarda quanto danno li toglie Dio Cristo Vergogna Eh, vabbè Sono morti Ma ne appariranno? Ma che cazzo ne so Non mi ricordo nulla Era anche finito, eh No che non è finito Ok Ma davvero? Ma siete sicuri? Avete mio sbagliato No, ve lo domando, eh Con i minion addirittura Noi si tolì tantissimo, eh Noi si tolì Noi si tolì Noi si tolì Noi si tolì Io non ho visto niente Andiamo avanti Eh Erano morti? No ovviamente No ovviamente No ovviamente Madonna ragazzi Ma veramente Ma veramente In un posto così le devi affrontà In una strada le affrontà Che schifo Dio cane In una strada le affrontà E quindi È vero Cosa È vero È vero È vero È vero come fai un pigliato per il culo ormai sto gioco? veramente è impossibile è impossibile non farlo è impossibile è impossibile va bene e dove vado io? ah ecco mamma mia ragazzi mamma mia che livelli che livelli che livelli ridi joli grazie a tutti ci vuole poco in un posto così stretto io cane è meno male che si inizia da qui mi sembra che in passato non era così è meno male Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 mi domando. Ok. 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 io vi faccio vedere quel che è bene dopo eh. se ci si arriva. però ci si deve arrivare. non che tempi parti. non che tempi parti. sì. ma vaffanculo va. vaffanculo. strano ci abbiano messo gli stregoni eh però. sento la loro mancanza. sinceramente. Ok, va bene. ora che serve la vita non te la danno eh ma che è sta roba? ma che è sta roba? ma che è sta roba? fanculo dio cane vaffanculo porco dio vanna mettici un boss così qui madonna ragazzi ancora c'è il sav lì dio maiale poi non si deve incazzare non si deve incazzare non si deve incazzare